ah raga ma qua facciamo la festa dei materiali eh io non ne ho, non ho 92 no perchè no perchè c'è c'è coso c'ho una te uuuh raga gente no no per sbaglio l'ho stato io raga testi ci stanno sul raga io non posso stare c'è un po' la raga guardate se c'è gente raga dobbiamo andare agosto per forza eh si perchè non abbiamo niente abbiamo un'anteriore è soltanto due armi siamo pronti siamo pronti è bravo anche la killcott per il loot è il loot bravo io ho la mitragliettaria la digol io ho la desert legendaria poli che collagero perchè ha vannato l'allogrago perchè ha vannato l'allogrago chi l'allogrago si ha vannato i fatti perchè no 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 materiali mi servo ciao 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 ciao